Presidente, giù nella piazza c'è un uomo incadenato, la famiglia Minutoli. Lei conosce bene la situazione, ma hanno dichiarato che parlando con lei gli è stato detto al signor Minutoli o comunque alla famiglia che nell'attesa dell'emergenza abitativa mamma e figlio potrebbero andare in una casa famiglia mentre il marito che si trovi un luogo per poter mettere una tenda e aspettare lì. Io capisco il disagio di questa famiglia, non conosco questo signore ho avuto solo l'opportunità di vederlo ieri per la prima volta conosco la signora Morlands che ho seguito anche come Caritas loro hanno un'abitazione che è di proprietà, quindi non è del comune né di un ente pubblico questa abitazione subisce dei crolli, viene dichiarata in inagibilità quindi hanno un'ordinanza di sgombero l'ordinanza di sgombero gli dà l'opportunità di presentare la domanda per l'emergenza abitativa e loro questo lo fanno devono quindi aspettare che si chiude il bando ed esca la graduatoria e che sicuramente saranno nelle prime posizioni considerato la fragilità della famiglia posto questo hanno la necessità di trovare un riparo diciamo nelle more che esca la graduatoria e quindi sapere che posizioni hanno in graduatoria l'unica soluzione parlando ieri è che il comune gli dia delle risorse per potersi affittare loro stessi un alloggio loro mi hanno riferito che già il comune ha dato un contributo di 1000 euro per cui è difficile che gliene dino un altro io ho sostenuto che potrebbe essere l'unica tesi che si può come dire perseguire o altrimenti chiedere all'assessore ai servizi sociali se era possibile ospitarle una casa famiglia la signora e il bambino quantomeno è quella donna e la figlia o il figlio, non so se è un figlio e questo signore ha risposto e dice ma allora io mi metto una tenda al comune se la metto dove vuole non sono io che detengo le retini o le risorse io ho dato alcuni suggerimenti purtroppo la gente come dire esasperata va a dire un po' quello che penso quello che anche magari a volte per fare degli scoop si dicono tante cose comunque il problema resta quello che alla famiglia va dato come dire una sistemazione e secondo me un ulteriore contributo dato a loro che in qualche modo si trovano una visto che sono come dire in tre anche un mini alloggio l'unica soluzione è questa dare un contributo e aspettare che esca questa questa graduatoria e quindi vedere in che posizione sono e insomma la speranza dell'alloggio certamente ci esiste e saranno da quello che penso io considerato il caso nelle prime posizioni di questa graduatoria e quindi sperare in questo alloggio delle amicizia abitati a posto che la crisi di alloggi come abbiamo visto anche ieri è enorme e ci sono centinaia da quello che mi risulta le famiglie che hanno presentato domanda per emergenza abitativa per cui non è solo il caso di questa famiglia ma riguarda tantissime famiglie e bisogna bisogna comprare certamente alloggi con i fondi con i fondi ordinari e attingere a questa risorsa che molto spesso invece il comune ha omesso di fare e non è solo per colpa della classe politica ma certamente la colpa va di più la classe dirigenziale che ha seguito questi aspetti grazie a tutti